Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di Cinoa e fare un'altra video recensione dopo aver fatto quella di The Place, ne faccio un'altra di tutt'altro genere perché parliamo del meraviglioso, devo dire proprio senza mezzi termini, It primo adattamento per il cinema dal romanzo di Stephen King del quale nel 1990 venne fatto un film per la tv in due parti un film per la tv, devo dire, che è diventato un cult tant'è che il film ha avuto un successo incredibile a fronte anche di un budget veramente limitato perché è il film di Andres Moschietti, costato 35 milioni che per una produzione di Hollywood è medio-basso budget e ne ha portati a casa 700, ovvero 20 volte di più rispetto al film della tv appunto degli anni 80 che era sì, è un cult, è piacevole, l'ho rivisto però devo dire che a parte il discorso sul clown Pennywise interpretato da Tim Carey che regge anche a distanza del tempo e regge bene il confronto con l'interpretazione di Bill Skarsgård che è il nuovo Pennywise, devo dire che il film assolutamente è superiore al film per la tv anche perché i mezzi a disposizione di questo film sono superiori da ogni punto di vista quindi il risultato è, secondo me, naturalmente migliore detto ciò, quello del 90, soprattutto la prima parte si ricorda con piacere per chi ci è cresciuto come il sottoscritto, mentre devo dire la verità la seconda parte era veramente debole e noiosa ovviamente dopo il successo di questo hit ci sarà il secondo capitolo come succedeva nei due film per la tv che uscirà l'anno prossimo in attesa del prossimo capitolo parliamo di questo, di questo adottamento appunto del romanzo di Stephen King che mi ha sorpreso sono rimasto piacevolmente colpito perché sono tornato a vedere un cinema horror che tendenzialmente non si vede è un film horror classico anni 80 con le atmosfere di quel cinema di quel periodo devo dire un periodo in cui sono cresciuto a pane e horror quindi sono veramente contento di questo adattamento che era molto atteso e secondo me Andres Muschietti e tutta la produzione ha superato veramente alla grande questa prova che poteva avere delle difficoltà invece fila benissimo fila benissimo perché a parte la differenza del periodo in cui viene ambientato perché il romanzo di Stephen King è ambientato negli anni 50 in una cittadina del Maine mentre qua siamo negli anni 80 ma a parte questa differenza devo dire che la struttura del libro di Stephen King viene ampiamente mantenuta i protagonisti sono ovviamente il club dei loser meravigliosi tutti bravissimi ognuno è un archetipo di un adolescente bravissimi proprio nell'interpretare ognuno la propria parte per cui da un punto di vista proprio di presenza scenica funzionano alla grande e ti cattunano la storia è nota la storia di questi strani accadimenti anzi scomparsi di bambini che a cadenza di 25 anni anzi di 27 anni si ripetono in questo piccolo paesino i ragazzi anzi il fratello il fratello del protagonista che è Bill viene 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 rapito e Bill cerca di capire cosa come è morto il il fratello più più piccolo e quindi indaga su questa strana morte anzi sparizione insieme a Bill ci saranno gli altri ragazzi c'è Ben Ricky Stan Eddie si uniranno per aiutarlo nella ricerca e scopriranno appunto che in questo paesino c'è uno strano clown che ogni 27 anni ritorna per uccidere la prima volta che lo vedono tra l'altro in una sequenza bellissima dentro a un garage dove stavano proiettando un film compare nelle immagini appunto il clown e loro in realtà hanno una sensazione di deja vu cioè nel momento in cui compare questo clown gli ritorna in mente dei ricordi e scoprono che in realtà il clown fa parte della vita di questo paesino del Maine iniziano così le indagini e scopriranno che nel passato questa creatura demoniaca ritornava appunto come già detto a cadenza ogni 27 anni in questo paese per compiere degli omicidi e per uccidere dei dei bambini questo episodio viene documentato ampiamente in archivi della biblioteca della della cittadina che risalgono al secoli precedenti questo Pennywise questo demonio era sempre presente nella vita della della cittadina la prima parte del film è appunto incentrata in questa indagine da parte dei ragazzi il film è incentrato su proprio su tutti i ragazzi e Pennywise compare veramente poco nella nella prima parte viene usato un po' come Wes Craven faceva con il suo Fred Kruger il suo personaggio iconico della della meravigliosa saga horror nightmare nata appunto anche quella negli anni 80 Pennywise compare sempre abbastanza poco soprattutto nella prima parte mentre nella seconda quando il film prende un altro diciamo un'altra impronta e diventa proprio un'indagine nelle fogne dove si pensa che Pennywise è viva ecco la seconda parte è veramente un super horror molto inquietante girato benissimo da fare i complimenti a Andres Moschetti per il lavoro fatto le atmosfere tutto funziona e l'indagine che fanno i ragazzi ci trasporta dentro dentro il film un film che dura due ore che vola che è inquietante che regala anche delle scene veramente horror e da lodare anche l'interpretazione che fa Bill Sgaard per Pennywise con le sue facce e questo nuovo clown questo clown molto più eccentrico molto più curato nel nel make up non che quello del 1990 fosse peggiore era un clown diverso anche un clown figlio dei suoi tempi e anche della tradizione dei clown questo è un clown veramente più folle più imprevedibile e in alcune scene compare anche quando meno te lo aspetti e ti fa proprio saltare sulla dal divano e me l'aveva già fatto anche quando ero al cinema a vederlo quindi è un film horror veramente buono veramente notevole che mi è piaciuto tanto e che non vedo l'ora di vedere la seconda parte che secondo me è forse quella tra virgolette meno interessante ma bisogna vedere come andres muschietti la adatterà perché la seconda parte è quando invece i ragazzi diventano adulti ognuno ha una loro vita però la figura di Pennywise torna anche quando loro sono adulti un film appunto bellissimo dalle grandi atmosfere da cinema anni 80 ci sono ovviamente un sacco di rimandi anche allo stesso Nightmare c'è una scena dell'ingresso di un cinema dove compare proprio la locandina se non erro di Nightmare 5 il mito e quindi insomma è un film pienamente anni 80 per i rimandi ma anche per lo stile io sono veramente soddisfatto di questo bellissimo film che ha avuto grandissimo successo sia di critiche che di pubblico che secondo me da amante del cinema horror se lo merita tutto per quanto riguarda invece i contenuti speciali nel blu-ray sono abbondanti sono un'oretta di contenuti speciali divisi in quattro in quattro parti abbiamo anzitutto un'intervista che si chiama me lo sono assegnato Pennywise Live che è un'intervista all'attore Bill Bill Sgasgat che interpreta Pennywise e racconta anzitutto il suo provino di come si è approcciato al personaggio e nell'intervista si nota che è un grande fan del 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 personaggio creato da Stephen King oltre al fatto che ed è una cosa che colpì il regista e la produzione quando andò a fare il provino fu l'unico a presentarsi vestito come truccato come un clown e questo denota quanto l'attore ci tenesse a entrare nel film a entrare nella parte e secondo me fa un grandissimo Pennywise sia quando la la camera è molto la macchina da presa è molto vicina gioca tantissimo gioca in maniera positiva con il suo viso con le sue espressioni e soprattutto con la bocca e le labbra fa un lavoro incredibile e anche quando nell'intervista quindi senza trucco senza senza niente senza make up senza vestito e così fa un paio di espressioni alla Pennywise devo dire che sono sono incredibile l'intervista dura più o meno 15 minuti quindi è una bella intervista corposa poi c'è un altro contenuto che è The Loser Club ovvero tutto un backstage sui personaggi ragazzini protagonisti che vengono intervistati sul set tra un Chuck e l'altro e devo dire che sono oltre a essere bravi sul set sono alquanto esplosivi cioè si sente tutta la la loro giovinezza la voglia di fare un bel film ma anche di divertirsi e di fare squadra e secondo me si sente anche nel film che c'è un'intesa tra i vari personaggi vengono intervistati praticamente tutti e la cosa divertente è anche l'intervista all'unica attrice femmina protagonista giovane che si deve relazionare con questa banda di di scalmanati veramente divertenti e bravi poi c'è un una clip che è forse quella più interessante che è un'intervista a stephen king che racconta come il romanzo è nato quali sono state gli eventi della sua vita quotidiana della sua vita di allora cioè di quando era trentenne che l'hanno stimolato a scrivere questo romanzo a sua detta nell'intervista dice che allora era entusiasta del lavoro che stava facendo e voleva proprio spaccare il mondo con la sua letteratura e quindi aveva voglia di di conoscere avere aneddoti su cui poter scrivere e ne trova appunto in questo piccolo paesino che è Bangor appunto Bangor che esiste nel Maine dove scopri delle diciamo leggende metropolitane ma anzi no cittadine di paese su cui lui ricama una questa storia ci sono altri dettagli ma ve li risparmio perché l'intervista è veramente molto molto bella per concludere nei contenuti extra ci sono anche una decina sì una decina di minuti di scene tagliate che devo dire la verità non sono niente di particolare per questa video recensione è tutto veramente bello questo hit aspettiamo l'anno prossimo il secondo capitolo ciao a tutti